C'è un punto chiave, secondo me, che è veramente importante a sottolineare, che non è banale, no? Che noi siamo stati fin da sempre, dallo studio, cioè con le studi a scuola, no? L'arte è per pochi, no? In questo modo vai a sdoganare una cosa che era di nicchia, ma vi rendete conto che tutti al giorno d'oggi hanno delle competenze digitali, che fare... a quel punto non si basa su io sono in grado di realizzarlo, ma di fatto basta pensarlo. Ci siamo? Ci siamo? Non ridere come ogni cazzo di volta. Tanto quasi si p***a, la dici. Bentornati all'episodio del Tuvus Podcast, ragazzi. Mi mancava essere qua, lo sai, mi mancava essere qui con voi, perché è un po' che non registriamo alla fine. Ah, è vero, è vero. Tra l'altro c'è un clima anche più decente, l'ultima volta c'è un freddo bello. Sì, in genere sono l'unico a maglietta a maniche corte, ma in realtà oggi siamo in due, quindi mi fa molto piacere. Ah, siamo in tre addirittura. Mi lancio, mi lancio anche io. Rischio gore. No. Rischio gore. Vabbè, vabbè, ma tipo 21, perché in genere ci sono tra i... Le luci scaldano. Esatto, esatto, esatto. C'erano tra i 17 e i 18 gradi, ma si stava benissimo con una maglietta. Adesso va tra i 22 e i 23, quindi a fine episodio saranno 26. E poi che maglietta. Capito? Bravo, esatto. Sì, ne diventa una sauna in sto posto. Sicuramente. Magno turco. Questo, ragazzi, è il primissimo test del merchandising, tipo il Too Much Podcast, ma in realtà sarà una cosa che avremo soltanto noi. Chissà, magari un giorno, un domani per qualche... Un drop. Qualche... no, vabbè, qualche tipo, sai, contest, tipo qualche regalo, però è finissimo. Domani su Stokix a 200 euro. Sì, capito. No, col viola, no, vabbè, i colori si prestano bene. Too Much per McDonald's. No, vabbè, casomai è Too Much per Jordan, è proprio l'apisce, tipo bisogna arrivare lì, capito. No, vabbè. Ambizione. A parte tutto, a parte tutto. Comunque... Vivi lo hablo. Sì, e ho un annuncio da fare, cioè abbiamo un annuncio da fare che in realtà è stato spoilerato un po' dalle grafiche degli altri video. Abbiamo la data della prima live, cioè in realtà ce la siamo inventata adesso. È il 26 aprile, ragazzi, che è un lunedì. Saranno ogni lunedì un'ora di chiacchierata con la chat. Poi ovviamente il format, come tutte le cose, prenderà forma e si evolverà, però per ora sarà così su Twitch, quindi il link è in descrizione. Andatevi a iscrivervi anche là, se non l'avete ancora fatto. Perché? 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 Perché ridi? Vabbè. Ah, ma è bello, perché le vibes sono sempre quelle, è un po' che non registriamo, quindi forse è da ricalibrare. Oggi, ragazzi, come... Io non so cosa devo fare. Questo è Too Much, tipo... No, no, comunque... No, no, mi contengo, mi contengo. In realtà l'argomento di oggi che volevamo prendere è anche un pochino più serio, perché stanno esplodendo, ed è una cosa che magari c'è tanta confusione in merito, che sono gli NFT, ovvero non fungible token, no? Bisogna parlare un po' di questa roba qua, perché... Introduci un attimo, se no... È il futuro. Ma ne faremo dell'altra di confusione, probabilmente. Ti vorresti l'NFT di Lore che ti farebbe troppo rire. Sì, sì, Dani, li guarderebbe tutta la notte, non dormirebbe per queste cose. E Lore me lo farebbe sicuramente gratis. Potrebbe essere, potrebbe essere. Puoi fare di tutto, puoi fare di tutto, veramente. Però scome, introduciamo un attimino, cos'è? Ma non è che io ne sappia tanto più di voi, è soltanto che in maniera molto semplice ogni file che uno ha sul computer, quindi ogni immagine, un meme, qualsiasi cosa, se è copiato e incollato, è identico, ok? Gli NFT, ovvero i non fungible token, sono dei file che sfruttano la blockchain, quindi lasciate perdere il tecnicismo di come funziona la blockchain e tutto il resto non siamo qua per parlare di questo. però è un modo affinché un file sia realmente univoco, cioè che non può essere copiato e incollato dalla serie che il tag del file in sé è il medesimo, ok? Quindi c'è un legittimo proprietario di quel file lì. Cioè quel file lì ha un nome, un cognome per la proprietà, capito? E infatti è molto molto complesso perché gli NFT possono essere tutto, da un meme a un video, un'opera d'arte, allo screenshot quindi, cioè non è che è il tweet, ma è proprio lo screenshot del tweet. E c'è una marea di confusione attorno a questo argomento qua anche perché poi, se poi vai a vedere che il primo tweet di non mi ricordo quale profilo è stato venduto a 3 milioni di dollari, uno dice ok. Ma in quel caso, cioè, lui ha dovuto pagare il proprietario di chi ha fatto il tweet? Cioè della persona che ha fatto il tweet? Io penso che l'abbia venduto il proprietario. Ah già, ma la valuta con cui si… Bravo, e tu li compri con gli Ether che sono della blockchain Ethereum che è una criptovaluta e quindi bravo perché è tutto l'immagine da questo. E si trasformano poi in dollari? Non con il bitcoin. Non necessariamente, le puoi vendere, le puoi vendere oppure puoi tenerti il tuo portafoglio di criptovaluta che non necessariamente è legato a, cioè come tutte le criptovalute, c'è quelle, pensi a fare il tuo portafoglio di quelle… Che poi sono associate a un valore. Cioè se poi le vendi ci puoi fare speculazione sopra come… Esattamente, poi è difficile da spiegare in maniera semplice, forse col contesto in sé l'idea è un pochino più chiara. Praticamente tutto nacque dal 2014-2016 con un sito di gattini, ragazzi, cioè le persone crearono questo sito dove tu potevi collezionare delle foto di gattini digitali e le persone iniziavano ad appassionarsi a questo collezionismo di gattini fino a che un gattino non fu venduto a 140 mila dollari lì. Allora forse qualcuno capì che il mercato digitale delle cose, ovviamente astratte, potrebbe essere enorme. E poi siamo arrivati che un video di LeBron James che schiaccia… Venduto dall'NBA, dall'NBA stessa, la clip che dove schiaccia… Cento mila dollari, no? Cento, passo mila dollari. E la cosa folle che magari è molto poco a livello di comprensione… Con Aste sono stati venduti oppure a… Sì, sì, sì. Comprerò in Asta proprio. Ci sono tante piattaforme… E poi ce ne sono, penso, due forse che ora non mi ricordo i nomi, mi sembra una iniziasse con la S… Christis. No, no, Christis è la casa d'Aste. Esatto. Però ci sono dei siti dove te, attraverso l'iscrizione e quindi ottenendo un portafoglio nel quale te devi mettere appunto una tassa di iscrizione, devi riempirlo di criptovaluta, in questo caso Ether, Ethereum… Sì, di Ether, sì. Te puoi accedere a questo marketplace di NFT. È assurdo, perché anch'io è completamente nuovo di questa cosa. Cioè, potrebbe essere o una bolla che magari nomi che tra due anni è buono, oppure potrebbe essere il futuro delle opere in sé. Secondo me è molto interessante il punto di vista, perché tutto è nato a caso, no? Per ora appunto abbiamo visto anche insieme noi che si può anche… avevamo visto un'intervista di Montemani che intestava Clapis, vedere come ora veri e propri artisti, lui stesso Clapis, che ora vedono come produrre, rifatta NFT sia proprio il loro mercato, quindi lui faceva vedere come ha venduto una gif, quindi c'è proprio quel piccolo sketch, 3-4 secondi, di una scultura che si ruota, è stata venduta regolarmente a 30.000 dollari. Sì. E il fatto di come questo poi… cioè, chi diventa proprietario di fatto, beh, puoi fare speculazione sopra, quindi la puoi rivendere. Esatto. La vedi come sorta di investimento, però ora dici che è tutto molto legato prevalentemente a chi fa del collezionismo. Cioè, un po' futuristico come collezionismo, però si prospetta questa un po' visione di collezionare e avere la propria raccolta, quindi non so, appendere in casa quella cornice digitale che un po' non so se voi avevate, io avevo qualche… che poi non sono mai andato perché faceva veramente schifo. L'immagine che scorreva. Bravissimo. E però ho un'idea quella di comprarsi delle opere così e scorrere, no? Però appunto abbiamo visto anche quella… La cosa impressionante è che uno ti può dire, ok, ma perché io devo comprare una cosa del genere quando io, se cerco su internet quell'NFT lì, posso fare uno screenshot e averlo. Secondo me è per la mera voglia di collezionare. Cioè, tipo, ora ci sto ripetendo… L'esclusività, secondo me. Esatto. Il fatto che adesso, che secondo me tutti siamo fermi in casa, no? Uno si vuole guardare le proprie carte, le… insomma, appunto le figurine che vanno un sacco che… Lebron James o quelli di Luca Doncic che mi accostano… Ma quello è sempre stato, bro. No, però mi fa impressione quanto adesso si è scoppiato. Cioè, quest'anno, insomma, staticità totale… Come attitudine più persone sono trovate… Capito, hai ragione, no? Come attitudine uno si trova a avere la volontà di collezionare e, appunto, come diceva, amiche, avere qualcosa di autentico, avere qualcosa di esclusivo. Però non lo hai fisicamente. Hai una cosa sul cellulare. È quello, appunto. E cercando di spiegarla, appunto, a chi ci sta ascoltando, magari chi non ne ha mai sentito parlare, è come veramente se tu facessi uno screen di qualsiasi cosa che hai mai messo su internet e tu lo volessi vendere alle persone che sono interessate a quel particolare momento storico della tua vita dove hai messo quel tweet, Montemagno stesso, no? Che appunto… Ti sente visto. Magari metto in descrizione il link di questa intervista che è fantastica. Poi ha provato, sul suggerimento di Clapis, insomma, quasi per scherzo, a vendere lo screen del suo primo video. Quindi uno ti fa capire che… Uno ti chiede, ok, può prendere questa direzione, però si è visto, no? Allora che un artista come quello di Bansky, che fa magari delle artiste, no? Anche street art e tutto il resto delle persone hanno comprato questa opera. Infatti secondo me potrebbe essere anche come una sorta di next level, no? Da parte degli artisti, che alla fine puoi avere due fonti di guadagno, una magari dall'opera in sé e l'altra magari creando qualcosa di strano in un video. Che magari prendi un prestarome e li fai comprare la tua opera. Infatti come diceva lui, quello di Bansky, se Bansky avesse avuto la stessa idea che ha avuto quella persona, avrebbe avuto due guadagni e quindi… No, ma non sarebbe stato uguale secondo me. E poi comunque è vero, quello che dicevi che sono nati, appunto, Clapis in questa intervista diceva che ora sono nati delle vere e proprie nuove, diciamo, figure professionale che è quella dell'artista digitale, puramente digitale, che fa, non mi ricordo, diceva dei programmi di animazione digitale, contenuti digitali che possono essere dal gif al video all'illustrator stessa, cioè la foto, l'autopicture, che ti piace, no? Cioè, quindi proprio non ho la figura, ma c'è un po' di tutto, perché puoi vendere la clip, puoi vendere il quadro, puoi vendere… C'era Beeple, che quanto l'ha venduta? 69 milioni. Questo artista che appunto, come dicevi te, no, magari… È più grande, penso sia britannico, se non sbaglio, può essere? Sì, 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 nel senso lui è sempre stato un artista digitale, a quanto so, e poi ha venduto quest'opera che sono 5.000 piccoli quadri digitali riuniti assieme e tramite una casa d'aste, penso fosse Christis… Sì, sì, era la più importante… 69 milioni all'aste. Ma in quel caso lui ha dovuto comprare tutte quelle opere? Erano sue. Esatto. Lui ha tutte le sue? Ha radunato tutte queste sue opere, ha fatto questo collage, banalmente, esatto, c'è questo collage enorme. Piccolage. Capizzi, però è molto complesso, perché come fai a spiegarlo magari a un tradizionalista, no, anche magari delle opere d'arte, io non sono… non è che non sono appassionato, ma proprio non me ne intendo e non ho opere d'arte a casa, no? Però appunto c'è anche tutta una nuova fascia di… Sì, esatto, quella nuova era d'arte. Però anche lì, esatto, io magari a casa, io a casa ho fatto un investimento per un pallone autografato di MJ. Però è materiale, capito? È già più facile da comprendere. Qualcuno domani può avere il pallone di MJ che ruota come gif, proprio come se fosse una gif su WhatsApp e dire io sono il proprietario del pallone di MJ che ruota. Magari costa più del pallone stesso. Assolutamente, il gattino, il gattino che è stato all'emotico, famosissimo, il gattino con la canzoncina psichedelica che va su e giù, è mezzo milione di dollari. Perché qualcuno ha sentito l'esigenza di dire quel meme che tutti hanno sul cellulare è mio, cioè io sono in questo momento il proprietario e posso rivenderlo. No, no, questo è verissimo. Secondo me poi io ho letto anche un'altra cosa che si connette un po' bene a questa ricerca poi dell'esclusività perché alla fine l'NFT appunto, perché io dovrei comprarmi una gif perché di fatto diventa il proprio, a parte che non è ancora, come diceva anche Clapis e lui stesso ne produce, dice che ora le leggi anche sulla proprietà intellettuale, se io stesso vendo il video però lo devo levare da YouTube, lo devo, lo posso, è tutto ancora nel nasce, quindi non si sa ancora bene come andrà, come evolverà. Però secondo me il punto chiave che sicuramente è la base di questo nuovo esperimento è la ricerca proprio dell'esclusività, no? E ci sono anche altri siti che, non vorrei sbagliare, tipo Twert o qualcosa del genere che ti vendono, ti puoi comprare dei lotti di terreno sulla terra. Per ora è a caso, è a far ridere perché sembra, però anche lì, te sapere che quel lotto del Colosseo stesso che è mappato, quindi se hai il tuo lotto che non mi ricordo quant'è di dimensione minima, te lo compri, quello è mio, capito? E non ci puoi fare assolutamente nulla. Per ora niente, però, esatto, però, cioè per ora... Ma i prezzi come è successo, no? Alla stelle. Perché poi lo si sia, Colosseo tantissimo, ovviamente compratissimo, io lo cercai, Roma è già tutta piena, ma anche Livorno stessa, dove veniamo noi, tante zone sono piene, ma Venezia, tutto pieno, Piazza Marche è tutta piena, comprava Filippina, poi c'è la bandierina di chi dove te la compra, Filippina o Montenegro o Germania, Inghilterra, tutto. È incredibile, credo che proprio ci siano tantissimi filoni da poter intraprendere, no? Magari anche è un po' una voglia di spostarsi da, diciamo, la parte concreta magari della realtà. Secondo me è la scia che magari ha lasciato il bitcoin che sta portando con sé, no? Che magari uno... Come idea, tipo perché tu dici se qualcuno riesce a concepire una moneta che non esiste... Dici, cazzo, se dieci anni fa avessi investito dieci euro in bitcoin, ora... Ah, quello è vero. Magari ora uno la pensa allo stesso modo, su qualsiasi cosa escano, in maniera digitale. Sì, sì, ora vabbè c'è tantissimo hype, quindi poi si andrà a vedere, andrà stabilizzandosi, però il punto è proprio quello, dal collezione di gattino che ho sul cellulare che ho io e te magari mi fa vedere il tuo gattino, possiamo scambiarlo, posso rivenderlo a tutto, ad arrivare che un artista... Ma poi sono soldi veri. Eh sì. Cioè, quella a me è la cosa folle, sono soldi veri. Che è un'opera di un artista, quindi fisica, unica, è un pezzo unico, nessuno la potrà, potrebbero magari copiarla, però quella lì è un pezzo unico e quello è, adesso arrivo, può essere venduta, Bansky appunto, come stavo dicendo prima, 95 mila dollari è stata venduta a quest'opera qua e poi è stato creato l'NFT, quindi un video, di quest'opera che prende fuoco e questo video dell'opera che prende fuoco vale, cioè è stato venduto a 400 mila dollari, che poi adesso sarà rivenduto eccetera eccetera eccetera, però il punto cruciale lì è, ok, l'opera non esiste più, uno, cioè fisicamente non esiste più, quindi se... Bruciata, letteralmente bruciata. Letteralmente bruciata, in più, io credo che all'artista non vada niente, perché a quel punto lì lui... Sono nati 95 mila dollari. Esatto, ha venduto proprio l'opera in sé e poi questa terza persona ha fatto un'opera nell'opera, cioè una meta-opera praticamente, e è completamente diverso dal, ah collezione il mio gattino, fammi vedere il tuo gattino, cioè, quindi questa cosa qua è un'onda, è un uragano che poi può prendere mille sfaccettature e mi viene da dire, ok, quindi sei d'accordo o no sul fatto del, distruggiamo opere d'arte e creiamo video di queste che prendono fuoco, perché se alla porta l'esasperazione, allora poi dopo un cesso... Io penso che non c'è più nulla. No, no, però una cosa mi è venuta in mente, che in realtà esistono poi delle... Cioè, ti dici, Mera, cioè Mera, perché si parla di Mera, alla fine lo compro e rimane lì, no? In realtà ci sono alcuni siti, che non mi ricordo come si chiamano, che collegati al tuo NFT, che te puoi creare, esistono letteralmente dove te... Cioè, le tue città virtuali, letteralmente, dove ognuno, il proprietario, può creare dei musei, dove esponi la tua NFT. Sì. Ok, quindi... Che penso siano una sorta di portafogli, però uno fa un portafoglio in un mondo virtuale. Però un museo virtuale. Un museo virtuale. Quindi è un po', secondo me si collega, un po' ci vedo un po' anche il filone dei concerti su Fortnite, un po' questo aspetto qua, no? Perché alla fine creasi una città virtuale, cioè alla fine crea una città virtuale dove te... È come se pensare che gli uffizi o il dorsè non esistono più e c'è però... Cioè, capito, fa fermo. Tu ti rendi conto che ha preso così tanto veramente tendenza che a me risulta impossibile perché se me l'avessero chiesto magari, no, da ragazzino sette anni fa, sedici anni farei, ma secondo te da sette anni, no, tutte queste persone riusciranno a capire, a comprendere una cosa del genere, ti avrei detto di no. Cioè, voglio dire... Ma io per esempio nemmeno adesso. È quello il punto. Queste cose qua, magari la generazione, non lo so, nostra, riesce forse arrivare a comprenderle. Non riesco a capire come ha preso tanto... No, se io chiedessi a mio padre una cosa del genere, lui non capirebbe assolutamente. Perché ti dice, ma cosa? Perché dovrei, no? E invece tantissime persone, 69 milioni, non credo che l'abbia comprato un ragazzino, capito, assolutamente no. Quindi uno dice, wow, addirittura persone magari molto tradizionaliste riescono ad arrivare a comprendere e a scommettere. Ma si parla di questo? Eh, lì si parla comunque di business, cioè di soldi, quindi... Ho capito, ma 69 milioni di dollari, non so. Cioè, la cosa... Cioè, 69 milioni sono... Sono sacchi, sono veramente sacchi. Proprio sacchi. Ci paghi, penso, Ronaldo un anno, se sei vuoi tipo come calciatore. E ti avanzano, capito? Cioè, a me la cosa che fa impressione è che... Cioè, te tramuti in digitale, ma... Cioè, si parla di vite, vite, vite di stipendi. Cioè, di... Sì, sì, però, boh, non andrei magari sul fatto proprio dell'etica del soldo in sé. No, ma nemmeno l'etica del... Però sto dicendo quanto la parte... Così tanta parte concreta con cui ti puoi comprare così tanto mondo concreto si, diciamo, si dissolve e ti porta a un... A dei pixel. Che io non sto dicendo... Cioè, io non discrimino questa cosa qua, eh. Cioè, è solo che non riesco a capirla. Cioè, mi fa veramente, veramente tanta impressione. Perché altro è assurdo pensare che magari... L'opera digitale potesse un giorno valere molto di più dell'opera stessa, no? Magari porterebbe anche a abbassare un po' i ritmi del mondo dell'arte. Eh, te dici, sono un artista, mi sposto lì. Magari, no? Perché... Cioè, io pensavo al fatto, no, di Beeple. Sì. Cioè, che lui, appunto, essendo un artista digitale, lui, diciamo, poi, ora, super in maniera ignorante, diciamo, mette bene dei pixel accanto. Ho detto, Leonardo da Vinci, se uno si vuole comprare la Gioconda, o il Salvador Mundi, cioè, è Leonardo da Vinci che anni, 500 anni fa, con la sua manina, in maniera irripetibile... Vabbè, è arte anche quella digitale, eh? No, 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 assolutamente, assolutamente. Però mi fa impressione che il pixel è, tra virgolette, cioè, di tutti, è per tutti uguale, capito? Mentre la mano di Leonardo da Vinci, che si appoggia sulla tela, in maniera filosofica, cioè, è di Leonardo da Vinci, non è di... Cioè, c'è un punto chiave, secondo me, che è veramente importante da sottolineare, che non è banale, no? Che noi siamo stati, fin da sempre, dallo studio, cioè, da quelle studi a scuola, no? L'arte è per pochi, no? In questo modo vai a sdoganare una cosa che era di nicchia, ma, cioè, vi rendete conto che tutti, al giorno d'oggi, hanno delle competenze digitali, che fare... Cioè, a quel punto non si basa su io lo sono in grado di realizzarlo, ma di fatto gli basta pensarlo, perché se... Cioè, voglio dire, prima, no, si parla di Leonardo da Vinci, o qualsiasi altra cosa che vediamo esposta in un museo, si parla di eccellenza, di gente che l'ha visto in testa, e dove riuscita a metterla in pratica? E poi di pezzi unici. Pezzi unici, ma, cioè, perché, da dire, vedere una scultura e farlo, cioè, quante volte ho... Boh, ciò in mente una foto, un disegno, o lo vado e il disegno meno stilizzato e sembrava di Natale, no? Quante volte? Sì, 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 infatti. E invece, in questo modo, riesce a sdoganare una cosa che era per pochi. Cioè, vi rendete conto che tagliare e fare una clip... Cioè, il video è quello, non è che devo inventare nulla. Poi ci metti sicuramente 30 volte di tempo in meno rispetto a costruire un'opera. Assolutamente, un tweet, dove è l'arte? Lì sta la genialità. Secondo me, però, si va, ovviamente, a inflazionare in un certo modo, perché il volume di roba è enormemente più ampio. E qui, apri un piccolissimo parente, poi ti lascio continuare. Secondo voi, impoverisce? Esatto, infatti volevo dire, sdoganare, ok, che su me è una cosa bella, perché avvicini tanta gente che il collezionismo stesso, no? Pensiamo alle delle carte, no? Pensa a una gif... Camera grande, Ale. Grande. La gif della carta, no? Che prima, potrebbe essere, ok, me era, ce lo ce l'ho io e basta, riesco a vendere, a fare delle introite anche in questo... Quindi, portare il collezionismo anche in un'altra dimensione, primo. Secondo, faccio, appunto, come ho detto, che vai a... Cioè, permetti a molta più gente di fare delle arti... Fare arte, se ha qualche idea. Cioè, non so, qualcosa... Non so, tante... Cioè, ora va tanto anche delle foto su Instagram, comunque un commento, un tweet, una visione... Cioè, alla fine è poi un'immagine. E, insomma, è vero che aumenta molto il volume, però bisogna capire se, permettendo a tanta gente... Cioè, non si va a banalizzare, poi, perché secondo me anche quello è un rischio che ci può essere. Quindi è tutto, ovviamente, legato all'evoluzione, però io ci vedo molto di positivo il fatto che si apre la creatività a tanti, a quelli che, di fatto... Cioè, per me, io stesso non ho le competenze, le capacità, l'abilità di mettermi a disegnare... Cioè, voglio dire, alla fine Photoshop... Probabilmente si creeranno pure anche in quel contesto... No, magari degli artisti. Però sono molto più meritocratici, secondo me, a questo punto. Perché... È vero, anche Clapis... Penso a Photoshop, alla fine ci sono delle regole, degli strumenti, te li impari a usare, però è... Sono molto... Cioè, la libertà di creatività è molto più facile, perché te, quello che c'è in testa, riesci molto più facilmente a metterlo in prova. Degli strumenti è troppo più... Ti aiuta troppo di più, capito? Però allo stesso tempo, secondo me, come... Cioè, mi ricordo una frase che... Che disse... Ora faccio... Umberto Eco, prima... Che disse che questa cosa... C'è una citazione. No, no, mi ricordo citazione, però... Dice che il social dava... Dava la parola a qualsiasi scemo, capito? Esatto. Cioè, a me... Però, beh... Cioè, difendi il diritto anche suo di parola... Sì, 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 no, 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 certamente, però è molto facile perdersi, capito? Perché... Cioè, paradossalmente, anche il bravo, che si trova nel mondo digitale, magari viene... Viene, diciamo, impoverito, viene denigrato, viene magari offuscato da colui che si mette a fare questo qualcosa e magari, appunto, distoglie l'attenzione su ciò che realmente merita. Nel mondo digitale, eh? Non sto parlando del mondo digitale nei confronti del mondo concreto. Concreto, se si può parlare di concreto. Però, appunto, mi fa molta impressione questa, diciamo, quasi fuga dal mondo di sciccia, ecco. Sì, ma in più, quello che dicevi prima anche tu, che mi ha fatto venire in mente, questa estrema libertà di creatività è bellissima. Magari il confine sottile tra quello che uno può fare, tra il confine tra mondo astratto e mondo concreto, perché nel momento in cui, come dici tu, io non sono in grado di pensare quell'opera lì che ha fatto Bansky, magari nemmeno di realizzarla in otto vite. Però, mi ci vuole zero a dire, ah, io la prendo e la brucio e ci faccio un'opera mia che vendo a molto di più dell'opera originale. Come quella? Vale l'intelligenza? Questo è, sì, però questo è il mondo astratto che entra, non di prepotenza, proprio a gamba tesa e distrugge il mondo poi concreto. E l'altra cosa, secondo me, che può fare ancora più impressione è che, da una parte, hai bisogno della tua qualità manuale, dall'altra parte hai bisogno di un portafoglio. Sì, te dici che tutti possono pensare di bruciare l'opera di Bansky, però io devo spendere 100.000 dollari per comprarla. No, e che poi, questo non vuol dire che chi la brucia c'è il portafoglio, perché anche quel gesto è un gesto che ci puoi vedere genialità. E' così, come Bansky stesso quando tritola... Sì, sì, però quello è l'autore. Sì, sì, lo so, però dico che è molto... Cioè, vedo un equilibrio, però non riesco... Cioè, vedo un equilibrio in tutto questo, no? Perché è molto... Cioè, ci puoi trasportare quasi anche le regole del mondo reale, ora lo chiamo reale. Però è difficile vederci proprio una strada battibile da tutti, cioè, che tutti possono intraprendere. E' complicatissimo, ma anche soltanto per l'idea che quel video lì, dell'opera che brucia, che noi stiamo parlando, lo trovi su YouTube. Cioè, scrivi Bansky, cioè, prende fuoco NFT, Però non è tuo l'NFT. È lì, il punto è folle, perché... Però, ok, io apro il video dell'NFT, guarda, che complicato sapere di chi è. Tu devi andare sul sito dove esso è venuto e vedere di chi è. E secondo voi perché lui lo voleva? Quello che l'ha comprato o quello che l'ha bruciato? Te dici? Che è sulla stessa persona? No, quello che ha comprato l'NFT. Io brucio l'NFT, io brucio l'NFT e lo vendo a qualcuno. Te dici? Ah, no, 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 io dico... L'NFT è il video dove brucia. Eh, sì, sì, sì. Però l'ha fatto, cioè, chi l'ha bruciato e chi ha fatto i video dell'NFT... sia stata un'idea di business, cioè, ha detto che... No, 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 ma non dico il perché, il perché è stato bruciato. Perché è stato comprato il video o di perché è stata comprata l'opera? Perché è stato comprato il video. Eh, vabbè, perché le parlano tutti nel mondo dell'arte, perché appunto, io non sono un artista, ripeto, ma se lo fossi, immagino che, dal momento in cui mi vedo distrutta a un'opera d'arte che io so apprezzare veramente molto bene... baschi la ricompra no però nel senso fa impressione è geniale però però se la porti estremizzata la brucia c'è perché te crei un precedente te crei un precedente dove uno dice un altro con i soldi magari può dire ah ha funzionato quella allora io compro la monna non lo so poi dipende che c'è un equilibrio però è difficile stare alle regole di questo equilibrio perché appunto è come dire io faccio l'NFT del bruciare il colosseo capito cioè come di come se fosse una sorta di ma super estremizzato una sorta di digitale io faccio il peggio del peggio che poi cioè fondamentalmente così quanti spopolano su youtube perché fanno delle cose il trash capito il trash ah faccio il video al trash sì perché è quello che le persone sono più succulente eh capito fa molta impressione dico che c'è un equilibrio però è difficile stare alle regole di questo equilibrio per continuarlo insomma per perpetuarlo che altro se ora va di moda a bruciare le cose perché prendono valore chissà dove cazzo finire è un po' quello cioè se te sei giovane in questo secolo sei nato digitale quasi esatto e tutto il resto così e non riesci a dire ma chissà dove andremo figurati esatto nella mia testa i nostri genitori o comunque qualcuno più tradizionale cioè fa anche paura cioè uno guarda questa cosa e dice cosa sta succedendo però al tempo stesso c'è sia l'opera che viene bruciata e che viene venduta a Dix e sia il video di Lebron che schiaccia quello è geniale anche i miei ragazzi avanti a tutti ma anche quello lì il video cioè lo puoi vedere ovunque sì ma non è tuo quello che non ha a fare un botto non è ancora regolamentato nulla non è ancora e quindi si parlerà magari uno spera in quello ma pensate cioè più o meno non la so precisamente la storia però mi sembra molto come la storia dei diritti d'immagine cioè all'inizio non li cagava nessuno poi a un certo punto si sono tutti svegliati e chi ce l'aveva ci fa i soldi e qualche modo qualcuno che c'è lungo c'è perché alla fine se ce l'abbiamo io e te e quest'altro e siamo noi tre averceli ci mettevano a corre e fa oh cioè pigiamo su quello lì quel bottone lì alla fine ci facciamo i soldi però secondo me c'è anche quello dell'estremizzazione è vero bisogna stare attenti non bruciamo tutto ok però non vorrei che quell'opera lì di Bansky Bansky va bene cioè alla fine io che sono una persona media che non capisco nulla d'arte però alla fine noi conosciamo di quelle a carattere cioè a sfondo puramente sociale quelle famose ora non sono sicuro ma non vorrei che quella cioè alla fine era un'opera cioè alla fine l'ha pagata tanto perché sai che l'ha fatta lui però non era il suo main cioè il suo brand principale che fanno no non ha appestato i piedi proprio all'artista dicendo io compro la tua migliore opera e la brucio però in quel caso lì la generalità che è vera cioè insomma è molto cioè io non ci avrei mai pensato troppo di più no l'altra cosa che dico troppo intelligente a dirlo brucio e ci faccio un video cioè ho due vite avanti ma veramente a fare l'avvocato del diavolo ti dico che ci sarà sempre qualcuno che ha più soldi di quei tre ragazzi e io ti compro quella diciamo il next level di quella da bruciare e io poi te la brucio e allora quella nft quanto costa e la differenza è costa cioè costa di più quello che è stato fatto per primo dell'nft del bruciare per la prima volta un'opera di Bensky appena comprata o costa di più quella nft che io che ti voglio pisciare in testa ti compro l'opera di Bensky più potente di tutti e te la brucio poi è particolare cioè che secondo me è come di una corsa all'oro e l'oro qui è l'essere unico che poi precisiamo le nft possono essere anche molteplici cioè io posso fare un nft e dire do dieci id univoci cioè questo nft avrà dieci proprietari o quindici proprietari oppure questo nft è singolo e ovviamente il valore sale quando c'è meno offerta e quindi insomma è un argomento dove cioè ci si può benissimo perdere per ore perché penso non abbia in questo momento né capo né coda cioè c'è quest'onda che sta arrivando tutt'ora non ci ho capito ma nel senso poi il bello il bello è che ok facciamo così tu compreresti un nft cioè dove che nft compreresti in questo momento perché anche lì sono una persona che vuole comprare un nft guarda che è complicato cioè tu devi convertire dei soldi quindi ok delle cose concrete in monete 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 virtuali quindi in questo caso negli ether nella blockchain ethereum bla 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 e poi comprare un'opera non è per tutti cioè non è così immediato così immediato ma nemmeno non basta averci soldi ecco insomma esatto ma nemmeno nemmeno venderlo è così facile perché hai delle tasse io per gioco mi sono messo dopo che ho visto l'intervista che ormai abbiamo abbiamo citato quasi tipo una reaction però dopo l'intervista che ho visto di Clapis ho detto ma mi fai provare a vedere come funziona no? e penso su OpenSea è un sito dove puoi venderli ho provato a vendere un video tipo del non è solo di arte quello li vende un po' di esatto puoi trovare anche i meme per dire e ho provato a vendere il video a bordo campo del Madison Square Garden e ragazzi cioè ho provato a mettere delle cifre un pochino più altine cioè delle tasse assurde vabbè no perché anche lì io magari non lo so non ci vedo lungo però penso che nessuno perché devi comprare il mio NFT cioè te non lo faresti capito? no no quindi ho detto no non lo metto perché non sono sicuro ti sono io se fossi sicuro per davvero metterei il video del te hai l'NFT del point of view del primo posto al Madison Square Garden oh non perché non potresti averlo come nelle collezioni di tua NFT ma il problema è se prima o poi l'NFT costerà più del biglietto della partita poi anche lì l'NFT se tu vendi il tuo NFT te hai delle royalties no a livello di autore cioè io vendo l'NFT l'opera di Baski che brucia mezzo milione ok il nuovo proprietario lo vende a un milione io ho il 10% di lì però credo che a Baski non vada nulla va tutto al proprietario dell'NFT cioè è assurdo non so se avete altri altri spunti se no switchiamo no su questo però una cosa c'è comunque non è cioè noi non bisogna rimanere troppo impressionati dal fatto su me questo è soltanto il passo superiore della ricerca dell'unicità che appunto può essere nel giorno in questi anni nei drop nei vari collezioni edizioni limitatissime a pochissimi pezzi cioè la volontà di avere il pezzo unico esclusivo che ti dici che paghi anche fior fiori di soldi magari non ti metterai mai ma puoi dire sì però a me fa l'impressione che sei schiavo di questa cosa perché cioè Supreme se vuole se va bene il pezzo che aveva fatto una tiratura di 100 pezzi cioè su me è lo stesso paragone sì no infatti la clip posso fare mille e posso vendere mille scarpe è per questo che dico di Gioconda ce n'è una fine della storia sì è più capibile è più arriva arriva prima quello sicuramente sei più schiavo di colui che hai detto le regole cioè non è per niente di politichese però è per dire che fa più impressione che Beeple se vuole fare 3000 pezzi fa 3000 pezzi digitando 3000 pezzi io credo che ora non lo possa più fare cioè non lo so con quella che ha già venduto se no sarebbe impossibile ora non ne so di queste cose però sto dicendo che puoi decidere te la tiratura e il fatto che quella persona si senta più o meno unica ad avere quel pezzo cioè lo decide un click di tastiera non lo decide appunto cioè ripeto mi fa impressione questa cosa Gioconda una nel mondo e non esiste la seconda e la seconda non è uguale alla prima lo so però appunto è lì un po' la chiave prima di switchare argomenti e tutto il resto se tu ti dovessi mettere nella mente di un compratore ti dici cavolo lui ha i soldi per comprare la Gioconda dici vabbè cavolo però se li avessi magari lo farei anch'io tu ti dovessi mettere nella mente di un compratore di NFT da 69 milioni è veramente difficile arrivare a dire il perché lui ha comprato quell'opera lì perché te dici vabbè sulla Gioconda dici vabbè cavolo è bellissima no sull'opera digitale del collage delle robe no uno dice allora non è convinto e quindi uno lì arriva veramente dove dice allora non compra nella Gioconda no però nel senso l'esclusività allora non ci vedrò a lungo io ma se tu dovessi prendere un drop di scarpe uno dice ok vabbè posso capire perché sei un fan che è già più convinto perché lì c'è un mercato diverso ora ora c'è un mercato diverso capito ti dirò infatti si parlava delle scarpe di Travis Scott chi prima arriva quello che poi dice Travis Scott è da citare ci sta che fece quella collaborazione con la Playstation che appunto fece queste scarpe Travis Scott per Playstation 5 50 pezzi no 5 pezzi in tutto il mondo ma un paio tipo ho venduto a 30 milioni di dollari quello lo capisci di più però perché ti dici ok io è diverso non è che lo capisco di più sono un compratore perché altro le scarpe le posso anche indossare no l'altra cosa non le mette le mette non me le metterei mai anche perché il tuo numero non ce la fai mai a comprarlo una foto che ho sul telefono sinceramente boh va bene che costa 69 milioni che possono avere tutti che possono avere tutti però non è di nessuno è solo tua infatti no boh è come dire le scarpe di Travis Scott nemmeno tutte le hanno nella vetrina a casa però è come se tutti sapessero che quelle sono di Lorenzo Olivieri cioè alla fine quelle sono tue è quello ci stai guarda come ci stai pensando no ma è quello cioè voi riuscite posso semplicemente fare un post su Instagram scritto guarda ho comprato le scarpe di Travis Scott uno su cinque in tutto il mondo piuttosto che no eh lo so è così è per quello guarda la cosa psicologica dietro all'esclusività dietro al sentirmi no però come dicevi tu degli slider no a casa con le foto di NFT anche lì ok l'ho comprato lo voglio mostrare ai miei amici no uno fa ah cavolo aspetta faccio lo screen ce l'ho anch'io adesso capito c'è uno come dire uno come dire ho comprato l'opera che prende fuoco ah aspetta vado su youtube anch'io ce l'ho hai capito come è possibile per ore è molto per pochi anche di difficile comprensione quindi un po' uno lo vede cosciettissimo così da qua a due anni che poi rivedremo l'episodio dove sarà è una bolla tutti pieni di NFT è una bolla è una bolla oppure andrà magari questo video diventerà un NFT bravissimo bravissimo per me mi espongo per me è una bolla nonostante ci vedo tanti spunti positivi ma cioè per me per renderlo stabile e concreto servirebbero delle regole nel brevissimo termine che non vero applicabile perché mi sembra ancora un po' un bel casino quindi per me è una bolla palese quindi stai parlando a Michele tra due anni come minimo tra due anni direi ma perché non ho comprato tutto devo lasciare tutto io penso che sarà un fail esatto sicuramente non sarà così però un NFT va comprato ragazzi un gattino piccoli dopo 10 euro io sto dalla parte di loro oppure proviamo a fare gli NFT no qualsiasi cosa ragazzi non lo so la tazza di too much che gira tipo qualcosa così il pallone il vino del pallone sì sì l'intro l'intro che tipo bella ci inventeremo qualcosa se voi volete comprate gli NFT arriveremo al merchandising degli NFT capito partiamo dalle magliette e arrivare agli NFT no comunque online c'è di tutto e è quasi no anche semplicemente questo switch sembra strano e folle ma quello che mi viene in mente parlando di siamo andati a parlare di artisti e come questa cosa qua gli NFT poi adesso prenderanno magari non lo so io spero che tra due anni sia non lo so una cosa una strada tracciata per gli artisti ma sai cos'è che in realtà era la strada per gli artisti online di super cerchia Holyfence ragazzi Holyfence è nata così molto più capibile l'Holyfence di l'NF nettamente appunto se almeno una cosa importante ora è creatori contenuti digitali effettivi perché l'NFT diventa digitale quindi proprio secondo me la parola chiave poi è per Holyfence il collegamento è questo però come è appunto la storia come è che le raccontate io dicevo che Holyfence in realtà era un sito Allora Holyfence è un sito se uno sta ascoltando questo podcast adesso e non sa cosa sia Holyfence si può fare un account perché c'è un netto esatto se io descrivessi questo sito come tu crei una piattaforma dove posti quello che vuoi e sancisci un prezzo affinché le persone mensilmente possano accedere a questo un prezzo mensile affinché le persone possano accedere ai tuoi contenuti ok come lo sfrutteresti è partito per gli artisti adesso adesso è finito che praticamente non vai più all'edicola a prendere il calendario ma sei iscritto mensilmente ok ma per dire è sempre lì il mondo concreto che va nel digitale perché poi alla fine io pago magari 20 dollari per vedere una foto delle tette di Tizia e cioè e anche quello è una cosa che sta andando come pochi ed è sempre una roba che per tanta gente è un lavoro c'era le pons ma ci fanno un sacco di servizi alle iene no io dico quella di che ha intervistato anche Logan Paul è Bella Dolphin Bella Dolphin Bella Thorne c'è anche lei è una persona più grossa di più ma infatti è curioso che magari quando è partita tutta questa cosa qua oppure quando non lo so le vanguardiste iniziarono a mettere i video su AliFans o le foto perché comunque si parla di roba soft non è ok no 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 non è solo soft sì dipende poi nella maggior parte nella maggior parte comunque si parla di roba soft magari all'inizio qualcuno come noi come per gli NFT diceva vabbè ma perché dovrei no ci sono mille siti dove io posso vedere chiunque perché dovrei fare delle robe del genere no perché dovrei pagare dei soldi abbonamenti mensili quando ragazzi quando venne Netflix in Italia oddio al mese 9 euro ma è tantissimo ma perché avevi mille video mille film adesso la gente paga 30 dollari al mese per vedere due fotine statiche due di cioè capito è l'esclusiva che alla gente piace secondo me bravo cioè perché tu hai quei 1400 iscritti a quella ragazza magari magari la stessa ragazza su Instagram pubblica fotosimili ma no proprio coperte no e ti dici cazzo io pago bravo e riesco a beh però su me è una precisazione dovuta cioè non sono soltanto ragazzi ma ci sono anche certo sì 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 però appunto la demografica cioè certo no no però 60% è composto da sì 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 però utenti comunque ci sono anche creatori che generano contenuti anche uomini che proprio cioè non per forza softball perché infatti era partita per l'art ma i contenuti sono solo a pagamento no non è vero perché puoi anche fare un account e dire io mi poi decidere te anzi c'era appunto vedevo un intervizio che sono politiche diverse dipende da cosa vuoi fare no puoi appunto scegliere no c'erano pochi ma c'erano un prezzo alto quindi vado a farmi una nicchia oppure altri altri creatori che invece tipo c'è una stream molto famosa non mi ricordo il nome che lei invece ha il suo canale che è gratuito quindi c'ha tantissimi iscritti e poi genera e poi fai dei contenuti privati quindi a pagamento anche a poco fa roba un pochino più spinta e quindi c'è cioè uno poi fa la sua politica no pochi ma a prezzo alto oppure tanti ma è simile a youtube cioè nel senso puoi fare anche le è un instagram è letteralmente un instagram però tu hai il tuo feed personale delle persone che ti sei iscritto e puoi fare cioè quello che hai fatto non c'è e io credo che sia una roba che in italia non ha instagram ha perso tanto secondo me se ti guardi che fette di mercato e si è perso con le censure sì quello è vero però forse dovuto nel senso poi alla fine perché c'è se tu instagram ci stanno anche bambini esatto instagram diciamo che è per tutti no tipo holyfans io penso che sia sopra 18 sono quasi sicuro perché adesso sta andando quindi la scelta aziendale loro spero sia così però domanda quante volte noi su facebook siamo fatti l'account quando sarai piccini si metteva l'età di 7 anni più grande eh lì è perché come dici tu no all'inizio non è mai regolamentato col tempo poi non so se adesso anche perché non ho un account su holyfans da nessuna parte quindi non ho idea di come si faccia però la cosa che fa impressione è che è sempre una cosa online che va a intaccare molto poi nel mondo concreto perché poi come dicevi tu non è che è un lavoro è beh la dolphin non ho idea ci dà da mangiare ai pro nipoti 10-15 milioni hanno le stime del guadagno che l'ha fatto a dicembre perché a Natale ha rilasciato un ha fatto proprio un drop su holyfans del suo primo tipo video tipo soft insomma una roba del genere col fidanzato proprio tipo delle robe così però è una roba che all'inizio tutti dicevano ma perché figurati uguale gli NFT e poi ora c'è un mercato di persone che non è che si arricchiscono proprio però secondo me uno punto chiave che secondo me viene fuori inizio cioè secondo me è anche un po' da sdoganare questa cosa perché alla fine la reazione tua è stata c'è un esempio io non ho l'account mi giustifico però per dire ci rendiamo conto che al fine se ne parlava appunto io ho letto intervista guardavo questi video dove introducevamo questo servizio perché dice che è scoppiato mentre in pandemia perché c'è gente letteralmente che ha perso il lavoro gente che comunque che si allenava che faceva tipo personal trainer o la sera lavorava nei locali ovviamente c'è tipi di locali comunque che tutto chiuso la gente ragazzi alla fine è il lavoro assolutamente la gente ci mangiava e ci viveva e fa la sua vita con il fatto di questa situazione qua tanta gente si è trovata per terra ma letteralmente quindi tanta hanno dovuto anche per gioco o anche per necessità cercare di trovare altri modi di arrivare a fine mese però è anche e faccia vedere come tanti conoscenti l'hanno disprezzato e messo una pagina e dire te lavori cioè ha capito e invece dice che in America è una cosa molto più full flow molto più tranquilla esatto quello che stavo dicendo prima cioè è una cosa che qua magari è ancora molto serie però non ho l'account ragazzi sì certo però per fare un esempio lo so in America invece magari molto spesso può capitare che cioè non lo so 4 su 10 o 3 su 10 possono avere un account di fans qua magari è molto più irrisorio magari fans e persone non lo dicono sicuro ci sta però però poi se io ho un account laggiù devo pubblicizzarlo a qualche parte perché sennò chi ti si iscrive cioè quindi molto spesso se io lo ho la mia pagina Instagram lo vedi subito perché sennò infatti è quello il tram come dire voglio farlo ma non voglio che le persone lo sappiano ma voglio che si iscrivano scusa che non torna capito però è una roba che online non la paghi in criptovalute cioè sono dindi abbonamenti tra l'altro cioè paghi mensilmente sono abbonamenti è come avere un Netflix le dirette un Netflix personalizzato su un canale solo ci sono anche le dirette certo che ti arriva la notifica è un tweet è un misto di tutto Twitch Instagram YouTube nel paniere esce però è un social network anche lì magari c'è la genialità dietro di qualcuno che ha detto magari ha avuto anche fortuna scoppierà in che bolla tipo no 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 questo non come bolla perché mi sembra una struttura bella rigida però bisogna vedere che tendenza prende cioè diventa tipo prossimo sito porno è quello capito cioè se prende la tendenza porno oppure se prende la tendenza social network ha preso la tendenza porno se prende la tendenza porno non so quando si possa scoppiare così in Italia ok così in Italia però dice in America dicevo che è molto più sì 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 perché è molto più di massa no e quindi c'è anche però anche in America la maggior parte pubblicano foto e video soft porn sì sì cioè se io devo chiedere a uno se io chiedo a una ragazza ma tu hai OnlyFans lei pensa che io le stia chiedendo se mette foto nuda non se fa l'artista sì 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 però c'è questo stigma no che magari appunto si può creare perché se io ho un account OnlyFans cioè metti non lo so ci sarà sempre quella eremita artista esatto che la giunga di OnlyFans che pubblica le sue cose esatto esatto che uno dei primi no capito che aveva anche foto di fans però pensa se noi da domani dicessimo che fa la foto sul cesso esclusiva a 10 euro no ma no ma pensa se da domani dicessimo ragazzi ok trovate degli episodi speciali su OnlyFans se volete e la gente dice ma ragazzi che c***o che episodi che episodi state facendo un po' come Salvo che fece il trailer su c***o possiamo fare qualcosa del genere no ragazzi non lo so ci spostiamo da youtube cioè capito però c'hai lo stigma addosso la croce sulle spalle del la piattaforma il nome della piattaforma e ti faccio una domanda sono libero di fare cosa mi pare con il mio con cioè assolutamente sì no con con il tuo corpo vedi ah no 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 io per me in generale sono libero di fare cosa mi pare no però nel senso di mettere le norme della legge e tutto il resto no 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 però nel senso cioè perché al fine c'è una patata bollente bollente in tutti i sensi quando la metti no e cioè nel senso spesso cioè è giusto ovviamente devi fare i conti con quello che poi ti succederà però sono poi nel senso come come perché la domanda sembra molto delicata è un argomento molto difficile perché il nudo c'è anche il fatto del nudo come poi si relaziona con le conseguenze esatto vedrai se è pranzo di Pasqua cioè dieci ore fa vabbè ma che c'entra no 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 secondo me è una questione come dice le amiche che è molto delicata però proprio come gli NFT magari in questo momento è molto più difficile comprenderla no perché appunto cioè è un lavoro però capirla forse ci sono differenze per me sì no cioè non siamo ancora pronti cioè non siamo fra una mentalità così libera nella mentalità di un compratore scusami te capisci cioè prima ci siamo chiesti come possiamo capire un compratore di NFT X e non dice boh 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 come possiamo capire un compratore di un abbonamento per delle tette su internet magari uno ci arriva di più quindi per te hai risposte più facili capito farsi un abbonamento che ne so su bra** su p*** o su holyfans ah le bipa tutto quando è edit no no c'è una domanda che comunque sì 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 è vero farti capire magari sono concepite come cose diverse uno le concepisce come cose diverse perché magari il p*** è lo sdoganato e invece l'unicità il contenuto super autentico che quasi è un rapporto tra virgolette vis-à-vis capito perché non sei nel mare magno del sito porno ma sei vis-à-vis con chi ti scegli con chi paghi l'abbonamento è quasi un rapporto boh stretto esatto infatti quello che dicevano che appunto ho visto io ho questa idea che ho perché ho visto tutti i servizi che mi hanno interessato perché cosa era questa cosa quali sono le dinamiche di altri soprattutto sociali anche psicologiche anche un po' di business perché uno dovrebbe farsi come fare i soldi per qualcosa assolutamente e anche lì c'è tanta la richiesta dell'unicità del rapporto io col singolo cioè tanti richiedono cioè tanti tutta la maggior parte dei creatori contenuti fanno il soldo vero sulla richiesta cioè già hanno contenuti su misura per chi te li chiede e quindi secondo me è proprio intrinseco come sono parte degli NFT i drop cioè come io sono a fine è un video a me ne frega apro qualsiasi altro sito porno esatto e lo trovo perché devo pagare un sacco di soldi per avere il contenuto dove lei dice il mio nome o guardo in camera e sa che lo guardo si torna sempre all'esclusività guarda Twitch che magari uno paga per avere il commento penso no è l'iguale c'è anche lì in sovrimpressione si torna sempre e poi a però Twitch lo capisco l'essere umano cioè secondo me è tutto un dire al mondo o dire a una persona che nel mondo è influente o presunta tale dire oh ci sono creare questo rapporto e se costa 4 euro chiunque lo può fare se costa 100 euro chiunque lo può fare se costa 100.000 euro non so quanti lo possono fare quindi aumenta sempre più il valore dell'io ci sono dell'io ci sono e si torna l'nft anche qui la ridondanza che ha quel io ci sono capito perché quei ragazzi che hanno speso 95k e poi ne hanno guadagnati il triplo hanno fatto un io ci sono molto molto forte capito cioè secondo me è un po' riflette tanto anche magari il periodo che secondo me non è a caso che siamo nel mezzo di diciamo di costrizioni di di un mondo reale che magari ci sta stretto perché siamo stretti in una morsa di di morti virus vai nel profondo chiusure e e quindi uno dice ma io fuggo da qualche parte dove il mio io ci sono lo sentono sì 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 ma si torna sempre lì cioè è tutto trasversale è tutto trasversale che sia che siano gli nft che sia olyfans che sia una chat di twitch tutto il resto quasi ci fanno gioco queste dinamiche sul proprio il voler delle persone di un o io ci sono oppure di sentirsi parte di qualcosa perché poi alla fine cioè se funzionano così anche gli abbonamenti magari su patron c'è qualsiasi cosa che sia un un rapporto diretto che poi uno ha col creatore e invece ti faccio appunto parlato di creatore rapporto col creatore si parlava di contenuti diversi generalmente diversi quello dell'art generalmente è l'art comunque quello del software o comunque del nudo delle immagini di corpo alla fine quando faccio il grano se ci fai soldi ho ragione questo è a good point chi è che è chiave perché alla fine bruciare si parla di creare contenuti bruciando l'opera abbiamo se parlato di questo abbiamo dall'altra faccio una foto non parli cioè nudo con che soft porn facciamo anche più basso una foto del vedo non vedo un calendario invece di fare un calendario fisico faccio un calendario vedo non vedo con qualcosa più ammiccante io lo vendo ci faccio il grano in entrambi i casi sono un cretino perché ho bruciato un'opera che è un'opera d'arte o sono un grande perché vendo faccio le moglie nel mio corpo non me ne frega niente alla fine il corpo è mio faccio le mie parole e lì ci faccio il grano sono libero di farci il grano è chiaro hai ragione giusto ha ragione perché su me ti vedevo ti vedevo se te bruci un'opera perché si parla di soldi business a fine conti sono soldi se loro avevano già previsto che bruciando l'opera potevano fare 400 mila dollari sono dei geni punto e basta non c'è niente ok dall'altra parte la ragazza che ha previsto che se mette la foto fa x mila dollari è un business anche quello io penso sicuramente se la metti ovviamente vuol dire che sai che c'è gente che ti segue secondo me poi immagino anche che chi fa OnlyFans non è l'ultima arrivata penso che comunque siano persone magari conosciute anche piano pianino uno può crearsi però penso magari una persona per avere abbonati nella propria pagina un minimo deve essere conosciuta cioè su OnlyFans poi non so come funzioni OnlyFans come fai magari ad entrare in tendenza non lo so come diceva lui il vedo non vedo tu hai un account Instagram dove magari c'è un vedo non vedo e la stessa foto ci puoi fatturare la rimetti là e ci fatturi secondo me però magari qualcosa che spinge una persona magari che sul proprio pagina Instagram magari ha 20k 50k e dice ho tanti seguiti proviamo a fare questa cosa sai cos'è che mi ha in mente si torna prima è proprio il fatto che magari laggiù ci sarà anche una chat cioè io posso parlare con te quindi magari io che sono una creatore di contenuti di queste foto qua poi su Instagram quante sono le possibilità che io scrivo a lei e lei mi risponda zero anche se l'attitudine è completamente diversa perché una risposta su un messaggio su Instagram non è uguale a una risposta sulla chat di OnlyFans presumo no che magari te la stai pagando quindi è un po' diverso però ecco appunto per dire vado sì 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 è più giusto nel senso io pago vorrei che mi rispondi io rispondendo alla tua questione poi sentendo anche l'opinione di Dani vai vai io dicevo ma io rispetto entrambi in tutti i modi poi io credo che sia ogni caso a sé cioè molto particolare della serie tu hai un grande strumento è come avere una pistola dipende a come lo usi no capito quindi quando ci fu Bella Delphine che a Natale pubblicò quel video lì io non l'ho comprato e non l'ho visto ma me lo ricorderò cioè io tra cinque anni magari chissà che piega prenderà OnlyFans io mi ricorderò che lei è stata la geni il genio che ha detto guarda un po' sta roba guarda un po' sta roba io in un giorno faccio 20 milioni e poi tutti zitti cioè a catena tutti zitti capito perché uno dice ok ha fatto della roba soft e tutto lì si entra magari in dinamico un pochino più particolare che è l'etica personale la morale che uno dice ok però ti vendi le persone che ti vedono lì poi ognuno è libero di fare quello che vuole ci mancherebbe altro non perché lo fanno lo devi fare esatto se si parla invece del denaro ti dico genio rispetto a tutti poi magari io non lo farei non lo so però il denaro è molto oggettivo nel senso queste cose io vi dico la mia foto su me sono geniale allo stesso modo perché secondo me è una cosa geniale proprio come le mode se vanno e riesci a farci dei soldi a fine si parla di investimenti perché se io faccio una foto lo voglio su certe piattaforme di lavoro poi e riesco a farci dei soldi e ci faccio soldi tanto quanto bruciare un'opera cioè il mio investimento è geniale quanto il tuo che hai bruciato l'opera capito cioè se io passo la foto l'ho fatta bella sono bella è anche fortuna quindi ho doti doti naturali doti di intelligenza di bruciarla e li doti nel naturale in cui nasci perché sei una bella ragazza quel che ti pare sono creative e geniali allo stesso modo per me perché alla fine poi il soldo che ci fai se è uguale e quello è oggettivo non guarda chi è l'etica cosa quello non guarda in faccia nessuno è quella sembra la base non di giudizio però di cioè di paragonare pesa pesa nel giudizio uno dice ok forse 20 milioni di dollari con questa tipologia di azione i filosofi poi stiamo andando anche perché stiamo andando sopra l'ora e stiamo se non dico ma no ma di io sono stra d'accordo cioè con tutto quello che avete detto però cioè la parte in cui sono più d'accordo è quella che hai detto te dove non devi generalizzare perché OnlyFans come gli NFT sono un lavoro no però secondo me quando fai il rapporto inverso che il soldo può entrare a gamba gamba tesa sulla dignità di una persona che lavora c'è stato c'è stato questo caso in America dei lavoratori di Amazon che facevano la pipì nelle bottigliette perché gli orari di lavoro erano troppo alti no e l'orario di lavoro cioè in un'ora prendono 15 euro 15 euro l'ora che comunque è abbastanza dignitoso si è traslato in America ovviamente perché e la cosa che cioè la cosa che secondo me fa fa impressione che cioè se ciò che richiedi per non fare la pipì nella bottiglietta è un aumento di salario però te ne frega solo di quello ovvero io voglio il soldo in più poi per me io posso anche strisciare per terra secondo me no cioè sì però uno ti dice sarò libero di decidere di strisciare per terra per 5 euro in più non lo so la libertà personale la devi no perché io sono dell'idea che secondo me è anche la momento in cui non nuoscio cioè io che striscio è un po' estremizzato così sì esatto però è appunto per dire io che faccio azione X per avere 5 euro in più però dico sì ha ragione però sto dicendo che secondo me cioè è vero che è estremizzato però se è vero e magari ci sono stati articoli che hanno detto che è vero di gente che fa la pipì nella bottigliette e non è nemmeno una cosa che dici non è dignitosa io una volta lo feci per vabbè cioè nel senso non è solvogliamo solvogliamo no ma non è ma non è questione non è questione di cioè del gesto in sé sì ma è questione di dire che se cioè se io ti pago ti posso anche far ballare sparandoti sui piedi i prezzi sì lì poi si va sull'etica però però io decido io decido aspetta aspetta l'altra cosa che dico è se te persona coi soldi ma non è chi c'ha soldo mi impone a me capito io io decido ho la libertà di dire voglio 5 ore in più faccio questa Martina Abramovic ragazzi io cercavo la guardavo all'incontrario per quanto magari c'entrasse anche di meno però era proprio per dire che secondo me cioè sì il fine giustifica i mezzi sì però stiamo attenti a non generalizzarlo e in tutto questo Holyfans e NFT sono d'accordo perché ha ragione mica a dire è grano però alcune volte se giustifichi l'uno magari rischi di giustificare l'inverso e dire ok per il soldo boh cioè mi butto sono la tua prostituta sì sì e poi alla fine della fiera secondo me è il fatto del non generalizzare perché tu non hai idea di che cosa questa persona pubblica effettivamente su Holyfans quindi il grandissimo stigma dell'odiotus è su questa piattaforma quindi è sbagliato come la latoreazione di Novo sì esatto per dire un esempio e anche lì io sono stato mosso da questo stigma della serie ho un account Holyfans ergo guardo queste foto magari poteva avere l'account per un artista non lo so però è un po' lì il punto dell'autodifesa personale e questo grande stigma non va generalizzato perché tu a meno che tu non ti iscrivi veramente non avrai idea di cosa le pubblichi quindi è un po' così però è stato interessantissimo come riflessione ma quindi alla fine della fiera fai Holyfans dai no alla fine della fiera anche anche cosa scriverebbe fare con prezzo un po' di scarpe o un account Holyfans o un NFT aprire un canale Holyfans o creare un NFT dove droppi gli NFT oppure un NFT dove metti i tuoi Holyfans oppure un NFT di te nudo che giri idea di NFT ne commento esatto facciamo degli NFT insieme troviamoci comunque ragazzi iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto lasciate commenti e sbaglio io a non incentivare le persone a commentare ma a noi ci fa un sacco piacere leggervi e ci troviamo su Twitch il 26 aprile mi raccomando se è lunedì se no il lunedì di quella settimana lì ho sbagliato probabilmente non lo so ci vediamo al prossimo episodio ciao a tutti ciao